E' partito ufficialmente lunedì 21 ottobre il cantiere per realizzare la nuova rotatoria di Viale della Libertà a Pavia. Gli operai in mattinata erano già a lavoro in piazza Stefano Ciceri nella zona del Ticinello. In questi primi giorni in realtà non si vedranno ruspe, almeno per le prime tre settimane i lavori saranno infatti limitati alle aiuole che si trovano al centro dell'incrocio e non dovrebbero quindi esserci particolari problemi alla viabilità. Perché si possa partire con le operazioni vere e proprie sulle carreggiate dovrà prima venire chiuso il cantiere in via Oberdan a poche decine di metri da Viale della Libertà. Qui verranno rifatti marciapiedi e asfalti per non creare troppi disagi. L'amministrazione comunale ha deciso di intervenire in due fasi distinte per i due cantieri. L'intervento per la realizzazione della rotatoria vere e propria dovrebbe partire verso la metà di novembre, condizioni meteo permettendo. In una prima fase verranno posizionati dei jersey che costituiranno il perimetro della rotatoria. Ci sarà un leggero restringimento delle corsie ma senza modificare i sensi di marcia. Rispetto al progetto approvato dall'amministrazione fracassi, nella rotatoria è stata inserita anche una pista ciclabile e sono state apportate diverse modifiche agli attraversamenti piedonali così da renderli più sicuri. Il cantiere di Viale della Libertà dovrebbe durare otto mesi e concludersi a giugno 2025. Per tutta la durata dei lavori inevitabilmente ci saranno dei disagi alla circolazione in quello che è uno degli svincoli più trafficati del capoluogo.